GEMMA ESCE DALLO STUDIO Uomini e donne oggi, Gemma esce dallo studio, Giorgio la segue Oggi uomini e donne, Gemma e Anna discutono, la Galgani lascia lo studio. La nuova puntata del Trono Over, in onda oggi pomeriggio 21 dicembre 2017, vedrà nuovamente al centro dellattenzione il triangolo amoroso composto da Gemma, Giorgio e Anna. Dopo aver ricordato tutti i dettagli dell'esterna tra Manetti e la tedesco, la dama di Torino balla con Raffaele. Successivamente, dopo le danze, la signora del parterre femminile torna all'attacco. In studio scoppia il caos e si dà vita ad una dura lite tra la Galgani e Anna. Le due si accusano a vicenda e non sembra esserci modo per farle smettere di urlarsi contro. Maria De Filippi cerca poi di cambiare argomento e di parlare di un'altra coppia per cui non c'è stato il lieto fine. Gianfranco e Gina si stavano conoscendo, ma le cose non sono andate affatto bene. Lei lamenta di averlo sentito molto all'inizio, fino a quando non è sparito all'improvviso. Il cavaliere del parterre maschile del trono over di uomini e donne spiega che è venuto a mancare il suo cane e parla poi di abitudini molto diverse. Lui abita ancora con i suoi genitori e la dama lo vede ancora molto figlio e poco uomo. Gina sembra decisa a chiudere la frequentazione, ma poi decide di pensarsi un po' su. Nel frattempo, Giorgio si trova dietro il backstage insieme a Gemma. Quest'ultima ha infatti lasciato lo studio durante la lite di inizio puntata. Manetti cerca di tranquillizzarla e di convincerla a tornare dentro. Lei accetta, ma prima si va a sistemare il trucco. Trono over uomini e donne, Gemma vuole un bacio da Giorgio. Una volta rientrati in studio, Giorgio e Gemma ballane insieme. Dopo il ballo, Tina Cipollari accusa la dama di Torino di stare ad elemosinare un bacio dal cavaliere. Questa volta Al Galgani non nega e ammette che è proprio così. La donna sembra essere andata in confusione a causa della parole che le ha riservato Manetti e per questo lo critica perché la illude sempre con la sua benevolenza. Grazie per la visione!